io sono paolo morando giornalista di trento e potrebbe sembrare curioso chiedersi come mai un giornalista di trento è arrivato a occuparsi di vicende così lontane nel tempo quando sono avvenute io ero appena nato io sono del 68 e a milano quindi non esattamente la mia città io sono giornalista a trenti non quotidiano locale e mi è capitato in maniera abbastanza casuale di conoscere paolo faccioli ancora nel 2012 che bolzanino di origine e che ho scoperto che aveva molto a che fare con quelle vicende che io conoscevo molto perché mi sono sempre interessato a in particolare proprio le vicende dello stragismo di destra piazza fontana è sempre stato un po mio rovello una piccola ossessione da quando ancora nel 95 quando lavoravo a verona mi capitò di dovremmene occupare perché venne arrestato un veronese per la inchiesta del giudice salvini relativa piazza fontana nel 1995 una vicenda che tutti avevano dimenticato io poi nel 95 27 anni figuriamoci cosa potevo sapere a fondo di piazza fontana eccetera da lì è nata un po questa piccola sessione mi è capitato poi appunto di conoscere paolo faccioli che era il 2012 credo e da lì è nata un po questa altra ulteriore ossessione di scavo sulle vicende che loro videro coinvolto e quindi gli attentati precedenti alla strage di piazza fontana quelli del 25 aprile 1969 milano alla fiera campionaria e la stazione centrale una vicenda che ho capito abbastanza in fretta era assolutamente stata dimenticata negli ultimi 50 anni ho trovato pochissimi libri che ne parlassero e sempre in maniera molto breve sintetica e molto imprecisa ecco molto molto imprecisa e quindi ho iniziato ad approfondire la questione soprattutto attraverso le parole dei protagonisti loro malgrado quindi di paolo faccioli di tito pulsinelli di paolo braschi di clara mazzanti di angelo della savia che sono tutti ancora in vita tranne braschi che ha morto mentre io stavo approfondendo appunto la ricerca ma potuto in qualche modo usufruire di un'intervista che ha fatto un'altra persona intervista inedita filmata così come con angelo della savia e poi ho iniziato a leggere un sacco di giornali tutti i giornali dell'epoca perché la madre di paolo faccioli aveva a suo tempo ritagliato tutti gli articoli di giornale ed erano tantissimi di tutta la stampa nazionale di allora che se ne occupò con dovizia di particolari grandi paginate perché la vicenda fu lunga complicata dal punto di vista investigativo e poi processuale soprattutto dibattimentale e poi ho recuperato gli atti gli atti giudiziari che erano depositati all'archivio di stato di milano tante pagine 12 mila pagine fortunatamente da poco a quel tempo erano state tutte digitalizzate quindi è stato molto utile poterli consultare non personalmente sfogliando faldoni a milano ma a casa davanti a un computer con una chiavetta usb certo erano tante pagine comunque 12 mila uno ha bisogno anche se le guardi se le studi perché poi si tratta di pagina accumulate lì in decenni non li ordinate negli atti processuali c'è di tutto ci sono verbali di interrogatorio ma anche tutta la burocratia carceraria quindi un sacco di roba inutile poi molte cose scritte a mano quindi insomma non è stato semplice ma in qualche modo credo di esserne di esserne venuto a capo e via via che approfondivo la vicenda mi rendevo conto di quanto fosse appunto dicevo stranamente dimenticata negli ultimi decenni ma assolutamente rilevante decisiva esiziale direi addirittura per tutto ciò che è avvenuto dopo molto sinteticamente adesso cerco di in qualche modo delineare ciò che accade appunto 25 aprile due bombe la prima la fiera campionaria le 19 la seconda la stazione centrale all'ufficio cambi verso le 20 e 30 20 e 40 due bombe che fanno un sacco di feriti alla fiera una ventina di feriti tutti i lievi per fortuna ma quindi poteva essere una strage diversi mesi prima di piazza fontana anche se la bomba era a basso potenziale però era una bomba che esplodeva in un luogo pubblico molto frequentato siamo nel padiglione della fiat nel momento di chiusura della fiera è l'ultimo giorno di apertura della fiera campionaria e provoca appunto una ventina di feriti è una bomba non rivendicata non ha rivendicazione nessun volantino nessuna telefonata niente ed è una bomba così come quella della stazione l'ora e mezzo dopo che è congegnata in maniera abbastanza abbastanza complicata non è una non è una molotov non è una bottiglia piena di esplosivo rudimentale con la miccia per capirci sono bombe con un timer e quindi si tratta di una di una di una di uno grigno sofisticato e sono appunto ripeto non rivendicate e tutto questo è ciò che le mette in in linea diretta in si può collegare con tutte le bombe che avverranno dopo e quindi quelle in esplose nei palazzi di giustizia quelle sui treni del 12 13 agosto e naturalmente quelle di piazza fontana l'altra della commerciale quelle di roma sono tutte bombe non rivendicate tutte con timer molto ma molto diverse da quelle che possiamo definire azioni dimostrative che si verificavano molto di frequente anche allora siamo in un'italia di più di 50 anni fa bisognerebbe anche un po calarsi nell'epoca dei tempi che erano caratterizzati appunto anche da tutta una serie di azioni dimostrative che tanti a milano ma non solo e quindi queste erano sì tipicamente bottiglie con esplosivo rudimentale con una miccia che venivano fatte esplodere in luoghi isolati di notte quindi senza la possibilità di ferire nessuno di provocare feriti e che erano invece puntualmente rivendicate con volantini che in qualche modo le mettevano in collegamento con questioni politiche vere e proprie faccio degli esempi azioni dimostrative del genere magari davanti alla dow chemical che era l'azienda multinazionale americana che produceva il napalm quindi un atto un'azione dimostrativa contro contro vietnam oppure presso uffici in qualche modo diplomatici uffici del turismo spagnolo e quindi azioni dimostrative contro il regime franchista quindi quegli atti avvenivano non avevano ferito nessuno in tanti mesi e anche questi si verificavano la questione relativa alle bombe del 25 aprile è importante perché improvvisamente la polizia prima ancora che di aver in mano qualcosa quindi già la sera del 25 aprile perché il primo atto che viene inviato dall'ufficio politico del questore di milano ed è firmato dal suo capo del commissario allegro primato che viene inviato alla magistratura è ancora datato 25 aprile quindi siamo alla sera stessa dei due attentati e prima di mezzanotte quindi quindi siamo a due massimo tre ore dopo la seconda esplosione che è delle 20 40 stazione già si dice concretamente precisamente che quelli due attentati sono da addebitare agli anarchici questo ripeto in un momento in cui la polizia ancora non aveva in mano nulla perché le bombe non sono rivendicate non ci sono perizi evidentemente tutto appena accaduto gli spazi sono ancora recintati addirittura in stazione stanno ancora spegnendo l'incendio perché questa bomba ha provocato anche un incendio non ci sono testimonianze non c'è nulla da un punto di vista investigativo stretto eppure la polizia l'ufficio politico della questura si indirizza immediatamente in direzione degli anarchici questo perché perché viene in qualche modo individuato il meccanismo anche ripeto prima ancora di avere nulla in mano viene subito identificato il meccanismo di queste due di questi due ordini come identico o quantomeno molto simile ad altri attentati che erano avvenuti l'anno prima nel 68 alla rinascente ai grandi magazzini della rinascente sempre a milano attentati peraltro parziali perché si tratta di bombe inesplose di cui la stampa mai pubblica una riga perché non ne venne informata di cui quindi nessuno aveva alcuna informazione se non la polizia e quindi l'ufficio politico e quindi l'ufficio affari riservati del ministero dell'interno al quale l'ufficio politico della questura il commissario alleca rispondevano non rispondeva il questore l'ufficio politico della questura rispondeva all'ufficio affari riservati questo è un punto essenziale che va che va detto subito su queste bombe della rinascente magari ne parlo più avanti perché perché sono appunto un elemento fondamentale di tutta questa vicenda di cui nessuno aveva mai scritto una riga fino a che non ci sono imbattuto io in qualche modo per via di questi attentati appunto dicevo le indagini vanno subito in direzione degli anarchici nel giro di pochi giorni vengono arrestati due notti anarchici milanesi non giovanissimi sulla quarantina intellettuali un architetto giovanni corradini la moglie eliane vinci leoni di origine francese che aveva una boutique di antiquariato in in brera nel quartiere di brera attorno al quale ai quali si radunava da tempo un vogliamo chiamarlo cenacolo anarchico era un punto di incontro per i giovani anarchici non solo milanesi tanta vero che vengono coinvolti in questa inchiesta questi due giovani che milanesi non sono paolo faccioli appunto e angelo della savia che vengono immediatamente identificati come i presunti colpevoli degli attentati del 25 aprile viene arrestato quasi subito anche paolo braschi che è livornese un altro giovane non milanese e faccioli che è bolzanino ma studia a pisa all'università e al primo anno di università vengono condotti subito alla questura di milano dove vengono tenuti per un paio di giorni e notti e dove confessano confessano un sacco di cose un sacco di azioni anche un furto di esplosivo in una cava e ritrattando poi però tutto nei giorni immediatamente successivi queste confessioni però sono la base il punto di partenza che serve alla politica per instradare ancora più le indagini nei confronti degli anarchici tanto che qualche giorno dopo viene arrestato anche angelo della savia che si trova in svizzera invece e già sono arrestati corradi vivi in cilioni e insomma in qualche modo nel giro di pochi giorni l'inchiesta è chiusa un'inchiesta che tra l'altro non verterà unicamente sulle bombe del 25 aprile anzi paradossalmente diventa quasi l'elemento meno importante e meno indagato da parte della politica perché invece a questi giorni vengono addebitati un complesso alla fine quando si arriverà l'invio a giudizia quindi al dibattimento un complesso di 18 attentati e dicevo appunto delle tante azioni dimostrative che si verificavano soprattutto a milano ma non solo perché di questi 18 tentati molti alla fine ne verranno compresi che verranno che sono stati effettuati a roma a genova a padova a livorno insomma come vedete non so a torino non solo non solo a milano dicevo 18 attentati 12 dei quali perché tutti questi attentati a parte i due da parte quello sostanzialmente della fine rampionaria del 25 aprile non abbiano fatto feriti solo quello della fiere praticamente li fa 12 di questi 18 attentati che vengono loro imputati vengono pubblicati come strage come reato di strage reato che esiste si configura anche in assenza di feriti no ma se vi è volontà di uccidere si configura del reato di strage quindi alla fine questi giorni poi se ne aggiungeranno altri ci arrivo dovranno rispondere in corte d'assise milano in processo a un processo che si è sposato al marzo e maggio del 71 di un complesso appunto di 18 attentati 12 dei quali stragi e quindi rischiavano 12 ergastoli quindi il punto da fissare a questo perché tra marzo e maggio del 71 si svolge un processo a milano con anarchici alla sbarra che rischiano 12 ergastoli siamo in un momento in cui nel frattempo cos'è avvenuto è avvenuto di tutto sono avvenute le bombe di agosto ma soprattutto è avvenuto 12 dicembre ed è avvenuta la mostrificazione diciamo di valpreda la morte di pinelli naturalmente e insomma in quel momento gli anarchici sono additati all'opinione pubblica i visti dall'opinione pubblica come i colpevoli di tutto quindi questo processo si va inquadrato in questo tipo di situazione perché quando si svolge di freda e ventura per capirci che sono naturalmente i miei responsabili delle bombe del 25 aprile e di tutte quelle successive ancora l'italia non ha mai sentito parlare quindi non esiste alcuna pista nera o meglio esiste in veneto la stanno col divanto di magistrati ma non se ne sa nulla anzi molto difficoltosa per come poi procederà questa inchiesta e però i normi appunto di freda ventura compariranno come dire verranno resi notti all'opinione pubblica proprio mentre sta finendo il processo in corte d'assise per le bombe del 25 aprile tutte le altre siamo proprio a maggio del 71 quando dal veneto viene spiccato un ordine d'arresto per freda ventura e trinco per associazione sovversiva poi un secondo ordine d'arresto che tra l'altro li vedrà in qualche modo imputati appunto anche delle bombe del 25 aprile per le quali nel frattempo venivano processati degli anarchici e non solo degli anarchici perché il processo vede alla sbarra otto persone e quindi paolo braschi angelo della savia paolo faccioli tito pulsinelli altro anarchico verrà restato poche settimane dopo in della dell'estate del 69 clara mattanti e e giuseppe norsche che non sono anarchici ma che frequentavano che sono toscani anche loro però frequentavano questi giovani anarchici perché in cui lo vivevano a milano erano iscritti al pc se vogliamo non c'entrano neppure con gli ambienti anarchici in senso stretto anche se da loro era una militanza per modo di dire nel pc loro stessi lo raccontano durante i verbali durante gli interrogatori non erano iscritti al pc in quanto allora ci si scrive dei partiti molto di più di oggi evidentemente in toscana poi figuriamoci ecco sei giovani in più l'editore giacomo feltrinelli e la moglie sibilla melega anche loro sono imputati non dei reati di strage del reato associativo di terrorismo insomma ma la loro accusa l'accusa di falsa testimonianza perché durante l'istruttoria ecco questo è un punto che è meglio chiarire bene la sera del 25 aprile e anche giorno precedente sono a milano della savia e faccioli e sono a casa di feltrinelli perché sono a casa di feltrinelli la sera del 25 aprile perché giangiacomo feltrinelli e la moglie sibilla melega vivevano nello stesso palazzo di giovanni corradini e sibilla melega ma di più erano amici strettissimi le due coppie vivevano un piano sopra l'altro ed erano si frequentavano di continuo tanto è vero che giovanni corradina il traduttore per feltrinelli della di un celebre libro di bakunin che era pubblicato da feltrinelli in quel periodo e l'aveva tradotto assieme a nicole vinciglioni che era la sorella di eliane quindi la sorella di sua moglie quindi sua cognata ma insomma sono le due coppie sono amicissime tra loro e vivono nello stesso palazzo si frequentano di continuo faccioli della savia frequentano corradini e vinciglioni perché tra le altre cose oltre a come dire istruire tra virgolette questi ragazzi sui temi dell'anarchia avendo la vinciglioni un negozio di antiquariato acquistavano come questi ragazzi producevano e poi la vinciglioni li vendeva nella sua boutique nel suo negozio le famose lampade tiffany lampade liberty quelle che faceva anche valpreta questa è una competenza artigianale propria degli anarchici sarebbe lungo raccontare questa vicenda ma insomma credo che chi chi ha conosciuto con le vicende un po la conosca appunto e quindi si trovano a cena da corradini vinciglioni e feltrinelli gli dice venite tutti a cena piano di sotto dove sto io e da quella sera c'è la sera del 25 aprile quando proprio si verificano i due i due attentati poi addirittura dopo cena vanno vanno al cinema vanno a vedere un film western questa è tutta roba dei verbali che viene viene raccontata feltrinelli quando vengono arrestati faccioli ebraschi e della sabbia indicato tra tra come latitante da arrestare si presenta spontaneamente alla magistratura milanese per dire ma guardate che la sera del 25 aprile questi giovani di cui vedo le facce tutti i giorni sui giornali giganteschi non sarebbe anche da dire come i giornali trattarono la vicenda all'epoca eh criminalizzando appunto subito in questi giorni non dicendo arrestati dei giovani per i titoli erano sono stati loro per capirci no così funzionava la stampa allora anche oggi se vogliamo ma allora proprio in maniera molto più 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 evidente dicevo che feltrinelli si presenta dal magistrato e diceva insomma vi racconto come è andata con la sera questi giorni quella sera erano da me a cena e racconta per fine per segno come è andata la giornata domeriggio la sera eccetera non viene creduto ma di più non viene creduto dalla polizia prima ancora che dal magistrato perché la polizia intende e questo si capisce dagli altri giudiziari le prova tutte per collocare feltrinelli a capo di questa presunta cellula eversiva che era in qualche modo secondo l'ipotesi investigativa ehm guidata da corradini viciglioni no questa è un po l'idea che muove la polizia se sia un'idea genuina o mossa ancora da piani superiori questo è un tema su cui si potrebbe discutere a lungo io non ci entro anche se nel libro in qualche modo si può capire si possono capire io credo molte cose ehm dicevo che tenta la polizia e quando dico polizia parlo dell'ufficio politico della questura di Milano e quindi parlo del commissario Luigi Calabresi che è il funzionario al quale viene affidata l'indagine polizia tenta in tutti i modi di di incastrare feltrinelli e la moglie non ci si riesce e quindi alla fine il giudice istruttore che il giudice amati lo invierà comunque a giudizio con l'accusa di falsa testimonianza ehm quindi non è in carcere chiaramente eh però è anche lui a processo eh fra l'altro è un processo al quale non non partecipa perché è già fuori dall'Italia lui abbandona l'Italia immediatamente dopo la strage anzi qualche giorno prima la strage in Piazza Fontana ma questa è una cosa che magari specifico specifico più tardi quindi il quadro dicevo è questo eh è un quadro che si complica si appesantisce per questi giovani anarchici perché l'inchiesta viene chiusa in un giro di pochissimi giorni ci sono queste confessioni poi ritrattate tra l'altro nelle ritrattazioni i braschi e faccioli diranno anche di essere stati pesantemente maltrattati negli uffici della questura di Milano durante quei due tre giorni e notti subito dopo il 25 aprile in cui vengono arrestati e interrogati è un punto che non verrà mai chiarito fino in fondo però va registrato anche questo specie alla luce di ciò che avverrà qualche mese dopo con la morte di Pinelli naturalmente si arriva comunque a questo processo dopo un'istruttoria però nel corso della quale siamo nell'estate del 69 compare una un elemento in più che complica la vicenda la appesantisce in termini di imputazioni nei confronti dei giovani e la rende estremamente più avvicente per ciò che avverrà dopo processo tutto questo è legato a un nome e il nome della superintestimone Rosemma Zublena Rosemma Zublena che compare rende più deposizioni al commissario Calabresi poi al giudice istruttori amati e di fatto quella che sarà l'istruttoria verrà totalmente incardinata sulle deposizioni della Zublena il cumulo di accuse quindi gli attentati che diventano 18 crescono via via nell'istruttoria proprio per via delle deposizioni della Zublena che appare come un computer nel senso che questa racconta dettagliatamente di tutto nomi date luoghi circostante volantini non sbaglia mai rende tutto in maniera lineare non si contraddice mai e insomma sembra veramente una super testimone perché perché lei aveva frequentato questi giovani aveva vissuto per qualche mese nella piccola abitazione di della Mazzanti e di Norce che era il suo compagno perché si era ritrovata senza appartamento insomma in maniera abbastanza rocambolesca e anche su come come dire su come entrò in collegamento con questi giovani si potrebbe discutere a lungo ma insomma frequentava questo appartamento che era frequentato anche dai vari Braschi, Faccioli e della Savia e quindi in qualche modo li aveva sotto controllo ma possiamo proprio dire sotto controllo perché poi tutto fa pensare che questa Zublena non sia non fosse una testimone per caso ma fosse un infiltrata della polizia negli ambienti anarchici cosa che ci sta la polizia deve infiltrare gli ambienti che ritiene essere possibili esecutori di attentati che siano anarchici che siano comunisti che siano fascisti la polizia quello è il suo lavoro deve infiltrarli che poi la Zublena fosse un infiltrata un agente provocatrice ecco questo è un elemento in più gradino in più e molti elementi che ho raccolto di ma non che ho raccolto io in realtà molti elementi che poi verranno fuori a processo sembrano indicare esattamente questa questa circostanza in più a complicare la vicenda c'è il fatto che la Zublena si era innamorata di uno di questi giovani Paolo Braschi quindi la super testimone Rosemma Zublena oltre a essere una che li ha visti questi giovani dice di averli visti e di averli visti in azione di averli visti complottare questo e quest'altro è anche una donna di 40 e 8 anni che è innamorata di un giovane di 20 anni ed è un innamorata rispinta quindi anche solo questa circostanza avrebbe dovuto in qualche modo rendere i dotti gli inquirenti a valutare con maggiore circospezione no queste sue queste sue deposizioni ancor più vi avrebbe dovuto rendere circospetti la circostanza che questa stessa Rosemma Duben alcuni anni prima tre o quattro anni prima in Piemonte l'era piemontese di Liverone vicino a Biella era un insegnante di francese alle scuole medie elementari vicino a Milano qualche anno prima la in Piemonte si era resa protagonista di una vicenda di calunnia continuata calunnia continuata nei confronti di tutta una serie di autorità del luogo ma parliamo del vescovo il sindaco il prefetto il deputato il parlamentare il ministro tutti i carabinieri la polizia tutti quanti aveva messo su una non so come definirla ma insomma per mesi mesi aveva scritto tutta una serie di lettere anonime in cui accusava tutte queste autorità di una di un complottone che li vedeva tenere nascosto un giro di prostituzione di malaffare di tutto insomma e tutti lo sapevano e nessuno faceva nulla carabinieri indagano dopo un po riescono ad arrivare a chi è l'autrice di queste lettere anonime che lei inviava non solo da Biella da Liverone da Milano da Torino da Roma da Genova in ogni posto in cui stava mandava la sua lettere anonima ai carabinieri o alla o alla polizia piemontese e arrivano a come dire la smascherano capiscono che lei e lei ammette che sono tutte lettere anonime scritte da lei e tutte basate sul nulla tutte false si svolge quindi anche un processo nei suoi confronti per calumnia continuata viene assolta per un caviglio che adesso non sto qui a spiegare ma di fatto lei ammette e promette che non lo farà mai più ok e la sentenza del giudice istruttore che archivia di fatto dice dice questo ma insomma questa qua è una non posso dire psicopatica ma di sicuro è una persona dalla personalità psichica estremamente fragile ecco troviamo questo modo un po con questa parafresi un po lo si capisce benissimo non serve la laurea in medicina e psichiatria per capire lo si capisce perfettamente questa super e quindi la vicenda finisce sui giornali sulla stampa su stampa sera viene raccontata quindi è nota è pubblica non sufficientemente pubblica evidentemente perché la polizia di milano l'ufficio pubblico della questura lo sapesse oppure il giudice istruttore lo sapesse bisogna capire come funzionavano le banche dati di allora ma insomma sta di fatto che il commissario calabresi il giudice istruttore amati non si rendono conto di ciò che di cui si era reso conto il giudice di biella soltanto tre anni prima cioè che questa era matta e alla quale non andava data o nessun credito questa rosè matroblena diventa la super testimona dell'ufficio pubblico della questura prima e del giudice istruttore amati e che poi appunto diventerà a processo il carline il carline dell'accusa il processo che si svolge in corte d'assise è ci andrebbe fatto un film in qualche modo un regista importante come bellocchio ci ha fatto un po un film nel senso che il suo splendido famoso film sbatti mostri in prima pagina che è del 72 quindi di pochi mesi dopo questa vicenda c'è un personaggio che è interpretato Laura Betti che interpreta il personaggio di una professoressa di lingue che si è innamorata di un giovane sovversivo tra virgolette non era anarchico ma insomma di sinistra addosso al quale viene costruita una grande montatura giornalistica prima investigativa anche perché lo si ritiene colpevole di un delitto a sfondo sessuale ma che poi avrebbe anche una caratterizzazione politica ma insomma il film è noto non serve raccontarlo ma insomma il personaggio di Laura Betti è totalmente ritagliato sulla figura di Rosemma Zublena tanto che nel film nella fiction il personaggio interpretato della Betti si chiama Rita Zigai R e Z alle iniziali come Rosemma Zublena quindi trae spunto bellocchio dalla vicenda del processo delle bombe del 25 aprile anche per un suo film così importante come quello che conosciamo che è Sbatti il mostro in prima pagina tra l'altro un titolo che dà la misura anche di ciò che voleva raccontare Bellocchio Sbatti il mostro in prima pagina è chiaramente la vicenda Valpreta è un chiaro riferimento alla vicenda Valpreta ma lui lo ha detto in un sacco di occasione naturalmente. Il processo dicevo si svolge tra marzo e maggio del 71 ed è clamoroso dicevo che ci andrebbe fatto un film perché io non ho mai visto un processo del genere visto non l'ho visto naturalmente ho letto i giornali dell'epoca studiato gli atti è un processo in cui giorno per giorno ogni giorno un pezzetto dell'istruttoria cade ma a farlo cadere prima ancora degli avvocati difensori dei giovani anarchici è il pubblico ministero ora non si dà il caso ma men che meno 50 anni fa che il pubblico ministero smontasse la tesi dell'accusa pubblico ministero era lì e doveva portare avanti ciò che aveva costruito il giudice istruttore ma e non era un giudice istruttore qualsiasi amati perché era il capo dell'ufficio di istruzione del tribunale di Milano quindi è uno dei due tre magistrati più importanti della 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 giustizia Milano il giovane pubblico ministero però era appunto un giovane scoppelliti giudice scoppelliti che poi diventerà molto molto noto negli anni a venire farà una grande carriera morirà ucciso dalla mafia perché deve sostenere come se non ricordo male procuratore aggiunto il cassazione il maxi processo quello alla mafia quello di falcone borsellino per capirci e viene ucciso dalla mafia quando quando questo processo lui lo deve appunto sostenere come come pubblico ministero ma ma antonino scoppelliti in quel momento giovane pm ancora non noto si ritrova in mano questi istruttori del giudice amati e fin dalla prima udienza dice bisognerà approfondirla bene in questa istruttoria perché ci sono molti punti oscuri ora che un pm si ponesse così in contrasto con il giudice istruttore non esisteva men che meno su una vicenda del genere che era così 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 importante anche da un punto di vista proprio politico di ordine pubblico ripeto che avviene nel 71 quando si sa cosa stava accadendo da mesi nei confronti degli analogici eppure giorno per giorno il teorema accusatorio viene smontato dallo stesso pubblico ministero principalmente dallo stesso pubblico ministero prima ancora prima ancora che dagli che dagli avvocati che dagli avvocati difensori che peraltro saranno loro gli avvocati difensori e sono importanti più più noto di loro è spazzali giuliano spazzali poi avvocato molto noto lo abbiamo visto tutti anche al al processo per la marxia tangente animont no era il difensore di sergio cusani quindi col pizzetto l'abbiamo visto tutti in tv tanti anni fa e gli avvocati difensori guidati da spazzali saranno loro a scoprire il passato equivoco della dublena per quanto riguarda appunto la calunnia continuata di cui già si è realizzata di più durante il processo a un certo punto spazzali chiederà l'incriminazione seduta stante seduta stante a processo del commissario calabresi per il reato di subornazione del test cioè della dublena in sostanza l'aver indotto la dublena a deporre in una direzione a dire determinate cose se non addirittura aver gliele suggerite adesso a prescindere da come avvenne questa cosa che poi non ebbe seguito dal punto di vista strettamente giudiziario nel senso che non si procedete a un'incriminazione di calabresi in questo senso però avvenne anche questo durante il processo cioè il commissario calabresi si chiese per il commissario calabresi l'incriminazione seduta stante è da sottolineare anche che nello stesso periodo in cui si svolge questo processo a un altro piano del tribunale di milano si svolgeva il famoso processo calabresi lotta continua quello che aveva in sostanza come oggetto la morte di pinelli no a prescindere dal fatto che riguardasse una diffamazione o meno di lotta continua nei confronti di calabresi e devo dire che se quel processo sappiamo tutti un po come andò con calabresi e la sua difesa che a un certo punto dovete ricusare il giudice perché si trovava in netta difficoltà per le cose che stavano emergendo e così andò a finire nel senso che non finì poi quel processo poi si dovete attendere d'ambrosio l'istruttoria successiva con calabresi nel frattempo ucciso perché anche questo va detto calabresi in tutta questa vicenda è una vittima anche lui è una vittima al pari delle altre vittime certo con un ruolo diverso rispetto a chi in banca si è trovato a morire per via di una bomba che esplode ma anche lui alla fine è una vittima di tutta questa vicenda anche se durante l'istruttoria o meglio durante l'indagine per il 25 aprile insomma non è che l'ufficio politico della questura di milano abbia brillato per così abbia brillato per esattezza di convincimenti quantomeno oltre che per alcuni dei metodi dei metodi utilizzati ma dicevo che non si procedette durante il processo all'incriminazione di calabresi ecco però mentre si svolgeva l'altro processo io devo dire che a studiare un po questa vicenda ma come la scrissero poi i giornali non è che c'è nulla di misterioso basta vedere come la scrissero i giornali allora calabresi uscì molto peggio da questo processo del 25 aprile che non da quello per la diffamazione nei confronti di insomma per la diffamazione della questione di rotta continua che si svolgeva parallelamente e sappiamo come è finito quello quindi insomma anche questo va detto anche questo va detto benché benché appunto non ci fossero non ci siano state la fine conseguenza in realtà la conseguenza finale di tutto questa vicenda e cioè di come il pm procedete a smontare il teorema istruttorio si ebbe con la sentenza perché la sentenza che arrivò poi nel maggio del 71 è una sentenza che sconfessa pressoché totalmente la costruzione di dell'ufficio politico della questura e dell'ufficio istruzione del tribunale di milano ci furono sì delle condanne per braschi faccioli e della savia braschi della savia anche faccioli ma poi lo dico più nel dettaglio condanne minori ad alcuni anni per alcuni di questi di queste azioni dimostrative per i quali lo stesso pm chiese effettivamente la condanna e devo dire che visto io poi loro li ho intervistati alcuni personalmente altri attraverso queste interviste fatte da una altra persona filmando filmando gli intervistati loro ammettono che questi alcuni di queste azioni dimostrative le hanno fatte ma erano appunto azioni dimostrative del tipo di come ho spiegato prima nulla avevano a che fare con con le bombe che esplodevano in luoghi pubblici potevano indiscriminatamente indiscriminatamente uccidere chiunque non avvenne il 25 aprile perché le bombe erano a basso potenziale ma poteva tranquillamente avvenire infatti qualche mese dopo avverrai come purtroppo lo sappiamo bene vengono quindi condannati braschi e della savia per alcune di queste azioni dimostrative a pene minori rischiavano 12 il gasto rischiavano 12 il gasto e alla fine vengono condannati a 5 6 satiani ora non ricordo che tra l'altro in appello verranno dimezzate le pene faccioli addirittura in appello verrà ritenuto colpevole e così anche in cassazione la cassazione confermerà l'appello soltanto del reato di porto di esplosivo quindi spostamento di esplosivo neppure partecipazione ad alcuni di questi attentati dimostrativi e però tito pulsinelli viene assolto clara mattanti viene assolta giuseppe norcia viene assolto gian giacomo feltrinelli viene assolto e sibilla meli galamogli viene assolta in più erano già stati prosciolti in istruttoria quelli da cui l'inchiesta era partita quindi vinci leoni corradini coloro i quali erano stati individuati come i presunti capi di questa potenziale di questa presunta cellula cellula terroristica quindi si aveva già un risultato paradossale al processo di battimento cioè di un invio a giudizio di una cellula terroristica i cui presunti capi erano già stati presciolti di istruttoria capite che già c'era qualcosa che non quadrava quindi abbiamo tre condanne a pene minori rispetto ai dodici gastroni rischiavano cinque assolti cinque assolti tra i dei quali si sono fatti due anni di carcere pulsinelli norcia e mazzanti un anno e mezzo di carcere altri due assolti feltrine di medica e addirittura due prosciolti prima ancora del rinvio giudizio e che pure si sono fatti sei mesi di carcere corradini e vinci leoni questo è il risultato come dire finale della vicenda dal punto di vista giudiziario quindi è finita bene tra virgolette nel senso che effettivamente la sentenza ha individuato le effettive responsabilità per alcune azioni dimostrativi ha totalmente smontato la grande costruzione che voleva questi anarchici stragisti stragisti già prima di piazza fontana e in più c'è da sottolineare che tutte queste figure avevano tutti a che fare con pinelli e con valpreda le figure di pinelli e valpreda compaiono di continuo nell'istruttoria addirittura la figura di valpreda a questi giovani si chiede più che dove erano e cosa hanno fatto la sera del 25 aprile più che questo a questi giorni si chiedeva conoscete valpreda che cosa fa valpreda che tipo di comportamento cia valprezzo gli chiedevano di valpreda e siamo alla fine di aprile del 69 già c'erano i fari puntati della questura di milano nei confronti di valpreda lì ciapinelli comparirà durante il dibattimento come testimone perché dovrà raccontare di come la duplena si è intrufolata anche a casa loro anche a casa di pinelli perché pinelli perché c'entra in tutta questa vicenda perché si era dato molto da fare per via della sua responsabilità per la croce nera anarchica per sostenere no questi giovani arrestati ingiustamente in carcere quindi mandava loro libri ma anche riveri clara mazzanti ha raccontato anche lei autrice di un libro di qualche mese fa su tutta questa vicenda racconta di come a un certo punto le arrivavano in carcere dei vivri del cibo lei rifiutava per non sapere bene molti molti anni dopo ha scoperto che questa roba questi pacchi gli arrivavano da pinelli pinelli che quindi aiutava questi giorni in più uno degli ultimi diciamo l'ultimo atto purtroppo politico tra virgolette in vita di giuseppe pinelli è legato proprio questa vicenda del 25 aprile perché il pomeriggio del 12 dicembre mentre esplodono le bombe in piazza fontana la bomba in piazza fontana lui si trova al ponte della risolfa per scrivere a macchina una lettera che vuole spedire appunto a paolo faccioli uno di questi giovani in carcere per le bombe del 25 aprile ed è il suo ultimo atto politico in cui questa lettera poi viene effettivamente spedita viene ricapita tappaccioli che la riceve in carcere a san vittore ed è una lettera in cui pinelli oltre a dire sono qui vi sostengo di che cosa avete bisogno vi spedisco dei libri eccetera vi aiutiamo con gli avvocati dice espressamente l'anarchia non è violenza la rifiutiamo questo scrive nella lettera lettera che si conoscerà soltanto dopo la sua morte sappiamo bene in quali circostanze e quindi pinelli a casa di piena lì si era introdotta la dublena perché la dublena mossa da un lato dalla sua passione insana per braschi quindi perché voleva aiutare braschi ma al tempo stesso lo aveva cacciato lei in carcere assieme a tutti gli altri con le sue deposizioni precedenti quindi una situazione veramente grottesca insomma la dublena cercava da pinelli informazioni ma appunto cercava da fine le informazioni su come aiutare braschi e gli altri in carcere o cercava da pinelli da pinelli informazioni per altre cose perché tutta questa vicenda si dipana precedentemente al 12 dicembre poi avviene quello che avviene in piazza in piazza fontana quindi le connessioni sono molteplici sono tantissime addirittura per la sono connesse anche a pensiamo soltanto all'arresto di valpreda l'arresto di valpreda in tribunale a milano avviene perché perché è stato convocato dal giudice amati per essere sentito come testimone in istruttoria appunto ed era l'istruttoria per le bombe del 25 aprile quindi valpreda si sposta da roma milano in corrispondenza con 12 dicembre perché è stato convocato da amati per il 13 dicembre quindi non ci fosse stata questa inchiesta per il bombe del 25 aprile valpreda non sarebbe venuto a milano sul fatto che valpreda da roma sia venuta a milano è inutile sta qui a raccontare tutta la questione ma insomma anche questo è un elemento un elemento un elemento notevole ancora eh tito pulsinelli che è uno dei giovani appunto arrestati fermati arrestati eh interrogati e poi inviati a giudizio aveva eh come dire sale dalla Sicilia per rendere una deposizione sempre al giudice amati nei giorni precedenti alla trage del 12 dicembre sale dalla Sicilia Nino Sottosanti no che era un suo amico un altro anarchico pseudo anarchico infiltrato confidente chi lo sa il Nino Sottosanti che poi si dirà essere il presunto sosia di valpreda che sarebbe salito sul taxi è una vicenda complicatissima ma è inutile la si conosce purtroppo ormai dopo tanti anni quindi Sottosanti eh è a Milano per testimoniare da amati e incontra Pinelli il 12 dicembre no e eh si incontrano proprio perché Pinelli deve ripagare Sottosanti delle spese dive di trasferca che ha avuto per salire dalla Sicilia per venire a testimoniare a favore di pulsinelli quindi le le vicende sono tutte connesse l'una con le altre e quindi per tutta una serie di questioni sono dicevo che è esiziale questa inchiesta sulle bombe del 25 perché è un po' come cade a fagiolo no cade a fagiolo perché significa che già prima del 12 dicembre l'intera opinione pubblica è stata formata plasmata in direzione antianarchica perché nelle settimane precedenti si era sviluppata questa grande inchiesta nei confronti degli anarchici con titoli di giornali di continuo titoli non esattamente eh eh esattamente eh cioè esattamente colpevolisti ecco questo intendo dire nei loro confronti si è costruito il mostro prima ancora della strage del 12 dicembre il mostro erano gli anarchici no e e questo è ciò che avviene durante durante tutti i mesi precedenti precedenti alla strage questo libro questo mio libro prima di Piazza Fontana è uscito nel giugno del 2019 e devo dire che quando è uscito ehm sì avevo un po' in mente che era il cinquantesimo della strage di Piazza Fontana ma io pensavo più che altro che uscisse poi non ci siamo non ce l'abbiamo fatto è uscito qualche mese dopo che uscisse in coincidenza con il cinquantesimo delle bombe del 25 aprile poi i tempi dell'editoria sono un po' non sempre si scalza tutto a pennello ma insomma è uscito a giugno e da quel momento in poi però come dire io stesso sono stato tirato dentro nel vortice delle degli appuntamenti degli incontri delle di tutto ciò che è avvenuto per via del cinquantesimo della strage di Piazza Fontana tanti libri sono usciti lo scorso anno per il cinquantesimo di giornalisti ricercatori molto più noti e autorevoli di me Enrico De Aglio eh Benedetta Tobagi eh eh il giudice Guido Salvini Gianni Barbacetto vorrei citarne tanti anni ma ne sono usciti veramente tanti ehm devo dire che il mio che in qualche modo non era esattamente sulla strage di Piazza Fontana raccontava una vicenda un po' parallela un po' precedente però eh è stato in qualche modo non lo dico perché lo dico io ma perché è stato più o meno detto era l'unico che raccontava un po' qualche cosa di nuovo è paradossale perché è una vicenda ripeto di cinquant'anni fa in cui non c'è stato nulla da scoprire che non fosse già stato più o meno detto beh qualche cosa forse sì dal punto di vista degli atti giudiziari ma insomma la vicenda era lì bastava prenderla in mano gli atti erano là i giornali lì le persone bastava intervistarle però raccontava questa vicenda precedente come ed aveva un quadro di chiarezza forse migliore rispetto a Tugio che è avvenuto dopo quindi mi è capitato di presentarlo molto in giro per l'Italia ehm nelle settimane precedenti al 12 dicembre ero quasi più a Milano che a Trento perché era soprattutto evidentemente a Milano che avvenivano incontri incontri di presentazione di libri convegni all'università eccetera e questa cosa qua la dico perché mi è servita è stata anche l'occasione in qualche modo di conoscere più a fondo eh Licia Pinelli e le figlie Silvia e Claudia che avevo incontrato durante la preparazione del libro eh proprio andato a casa di Licia assieme a Silvia mi ricordo che ci avevano ospitato mi avevano ospitato Licia e Silvia o poi intervistate però non è che come dire eh il suo racconto sia poi servito per il libro certo i ricordi suoi c'erano ma insomma poi il libro ha preso un po' un'altra un'altra direzione ehm però ecco mi è capitato davvero tanto di fare presentazioni ma non solo a Milano in tutta Italia con Silvia e con Claudio Pinelli quindi anche la possibilità attraverso un libro certo lo si fa affinché sia letto naturalmente se no perché uno lo scriverebbe eh però ecco mi è servito anche come occasione di incontro di incontro prima di tutto dicevo con la famiglia Pinelli e poi con tante altre persone che hanno avuto a che fare con con tutte queste vicende eh non le cito ma anarchici di allora ma io ricordo che avevo incontrato anche a Roma ehm Gargamelli e valitutti no che pure c'è valitutti sappiamo la vicenda è lui l'ultimo interrogato in questura assieme a Pinelli prima della morte di Pinelli Gargamelli è il valpreda romano tra virgolette no cioè colui il quale viene indicato come colui che mette le bombe nei vari punti a Roma il 12 dicembre pure lui al pari di Valpreda ha salvato due tre anni di carcere no quindi anche conoscere tutte queste persone grazie a questo libro devo dire che ecco è stato davvero un valore aggiunto che non pensavo che avrei mai potuto avrei mai potuto raggiungere ecco devo dire che l'ossessione che ho sempre avuto per Piazza Fontana e per tutto ciò che ha comportato nella storia d'Italia e insomma mi ci sono trovato buttato dentro ma soprattutto conoscendo le persone in carne e ossa e questo non è come leggere i libri è un bel po' di più è un bel po' di più il fatto che l'istruttoria di Amati sia stata smontata scardinata dal da giovane PM Antonino Scopelliti beh intanto vale proprio per il merito della cosa nel senso che quelli chiesta non stava in piedi ma la perizia balistica ma la perizia balistica avrei potuto farla meglio io che non ho mai preso in mano neanche una pistola d'acqua ma non lo dico io perché io perché l'ha fatto Scopelliti l'ha massacrata con la perizia balistica e l'aveva fatta Teonesto Cerri quindi il perito balistico del tribunale di Milano il perito balistico di Piazza Fontana e della banca e della bomba la commerciale che infatti viene fatta sciaguratamente brillare anche con in qualche modo via libera di Teonesto Cerri quindi quindi c'erano elementi sostanziali contro i quali come dire un'azione di un PM onesto non poteva non andare e dico onesto a maggior ragione perché al tempo stesso chiese le condanne nei confronti di Braschi della Savia per alcune azioni dimostrative minori certo nel frattempo il clima era anche un po cambiato cioè la morte purtroppo di Pinelli la terribile morte di Pinelli ma anche detto questo che forse è stato anche il sassolino nell'ingranaggio di un ingranaggio che altrimenti avrebbe potuto portare a chissà quali altri risultati ma questa cosa qua ha avuto come minimo l'effetto la morte di Pinelli in questura ha avuto come minimo l'effetto di svegliare una parte di informazione una parte numerosi giornalisti voglio dire fino a quel momento e per come la stampa si comportò nei mesi precedenti a Piazza Fontana relativamente richiesta per le bombe del 25 aprile proprio alla dimostrazione palmare la stampa si beveva si trangugiava tutto ciò che gli veniva dato dalla questura dei magistrati non c'era il minimo dubbio la questura non mentiva il magistrato non mentiva questo era il clima ok la morte di Pinelli come dire fa venire più di un dubbio evidentemente e quindi quella che è la grande stagione della stampa democratica successiva alla strage in Piazza Fontana dico solo Camilla Cederna e pensateci un attimo cioè Camilla Cederna che era una che si occupava di gossip se una come Camilla Cederna che si occupa di gossip diventa la punta di diamante della stampa libera e democratica che cerca di smentire appunto la questura e la magistratura su una vicenda enorme come quella di Piazza Fontana dà la misura di quanto di come ci fossero elementi appunto sufficienti per risvegliare qualche qualche un'attenzione forse subita quindi senz'altro il clima è cambiato quindi la Cederna Stajano Pansa ma insomma tutti i giornalisti che si occuparono della vicenda allora notta naturalmente adesso sto dimenticando sicuramente qualcuno eh esce il libro la strage di stato che improvvisamente dal nulla eh fa eh fa vedere che forse gli anarchici non c'entrano lo dico molto in maniera imprecisa certo che non c'entravano che c'entravano tutt'altro poi che anche la strage di stato in realtà in realtà i nomi di Freda Ventura non vengono fatti nel libro della strage di stato si parlava più di di avanguardia nazionale ma quello che sono dettagli ma insomma avviene che si scoprono altre cose su cui fino a quel momento la magistratura poliziana aveva minimamente non si era minimamente impegnata diciamo quindi che un clima culturale politico giornalistico fosse cambiato di sicuro è vero e può darsi che Scoppelliti che è un magistrato giovane quindi di un'altra generazione rispetto ad Amati rispetto ai capi del tribunale eh eh rispetto al presidente della corte d'assise che processa i giovani anarchici è un'altra generazione così come c'è una generazione diversa di giornalisti c'è anche una generazione diversa di magistrati quindi questo è un elemento secondo me anche non secondario nel chiarire come poi questa vicenda sia conclusa positivamente eh da un punto di vista strettamente giudiziario certo con in mezzo due anni di carcere di persone innocenti che non dovevano trascorrere quei due anni in carcere io faccio l'esempio di Clara Mattanti che proprio nulla c'entrava con questa vicenda manco era anarchia proprio non c'entrava niente io credo che due anni tra 69 e 71 di carcere femminile a San Vittorio una ragazza di provincia come era lei di 19 anni e insomma possa cambiare una vita e di fatto l'ha cambiata. Grazie a tutti